eccoci buonasera a tutti sono rosa tumolo direttrice del giardino dei libri e questo è il centodiciannovesimo webinar gratuito della serie dialogo con gli autori un progetto nato nel 2017 e per i lettori che hanno così la possibilità di approfondire gli argomenti direttamente con l'autore potete vedere tutti i nostri 118 webinar precedenti gratuitamente nella sezione del giardino dei libri dedicata ai webinar questa sera parleremo degli effetti benefici e miracolosi del sale marino integrale e dell'acqua di mare e lo faremo in collegamento in diretta con il naturopata pierre pellizzari eccoti pier ciao buonasera ciao buonasera è veramente un piacere averti qui di nuovo come ospite del giardino dei libri grazie per aver accettato il mio invito grazie grazie a voi grazie pierre come stai tutto bene tutto bene tutto in forma tutto bene con quest'estate che si prolunga che si estende si sta proprio bene qua su ne parlavamo prima invece che qui da noi a rimini è un gran caldo senti che tu dove sei collegato così diciamo anche a tutti i partecipanti dove sei stasera e io sono collegato nel nostro borgo di val di brucio nel comune di badia tedalda a 850 metri di altitudine e siamo al fresco perché fuori adesso ci sono 14 15 gradi contrario che da noi bene senti allora ne parlavamo prima io ti voglio aggiornare sul numero degli iscritti che sono tanti e sono più di 2700 abbiamo controllato prima ecco la slide sono 2741 iscritti e questo mi fa molto piacere sì è un bel numero sono molto contento e sono sicuro che si si moltiplicherà il numero delle persone che guarderanno questo webinar successivamente perché penso che ci sono delle notizie molto importanti che vanno un po a scardinare delle delle leggende metropolitane sul sale infatti pierre questa sera ci parlerai dell'importanza e delle potenzialità curative del sale marino e dell'acqua di mare che è questo che il tema poi trattato nel tuo libro dal titolo il sale integrale rimedio antico magico eterno con l'alchimia degli ormus eccolo qua ve lo faccio vedere tra l'altro se non sbaglio è la terza edizione giusto pierre si è la terza edizione che penso che questa terza edizione è proprio bella e completa e affronta tanti argomenti attuali e quindi sono molto felice di questa terza edizione bene abbiamo messo anche la slide perché poi voglio aggiungere che questa sera chi acquisterà il tuo libro il sale integrale avrà un importante e utile omaggio si tratta di un puro estratto di mare in cucina e uso anche quotidiano e marentia proviene dal mare della sardegna eccolo qua intanto ve lo faccio vedere un attimo perché di questo ne vorrei parlare dopo il tuo intervento pierre va bene va benissimo si sono molto contento di questo omaggio che ho anche sponsorizzato perché è molto importante anche a livello topico a livello curativo esatto dopo ne parliamo meglio allora senti pierre poi tu sei autore anche di cinque libri io li ho preparati perché li voglio far vedere il primo è ripulire i propri organi ed è un vero best seller eccolo qua ed è la sesta edizione ed è stato stampato se non sbaglio oltre 25 mila copie è esatto eccolo qua si 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 è esatto bene poi abbiamo me ne sono un po preparati amarsi nella pancia eccolo qua poi abbiamo recente si ha provato la nuova medicina del dottor hamer questo qua molto importante di benessere alimentari si molto completo e poi guarire facile basta volerlo questo è un riassunto un po di tutto ecco qua allora senti pierre prima di continuare ti voglio presentare brevemente ai nostri partecipanti pierre pelizzari è un naturopata scrittore e divulgatore attivo da 30 anni in italia e all'estero si è dedicato per 30 anni alla riflessologia plantare l'acqua healing il benessere fisico ed alimentare e soprattutto alla compressione delle malattie attraverso le leggi biologiche scoperte dal dottor hamer condivide e pratica tutte le sue conoscenze a val di brucia un piccolo borgo che assieme ad amici ha acquistato e ristrutturato e dove approdano numerose persone in cerca della tranquillità o di un miglioramento della propria salute giusto pierre giustissimo grazie bene prima di proseguire con la nostra serata come sempre pierre che tu sei già stato nostro ospite ricordo a tutti i partecipanti che se volete fare delle domande direttamente a pierre pelizzari sullo schermo nella parte a destra troverete una chat dove potete scrivere le vostre domande pierre vi risponderà dopo il suo intervento allora pierre noi prima ci siamo parlati so che sei in questo bellissimo posto che dopo abbiamo anche un video molto bello da far vedere dopo il tuo intervento io sono molto curiosa di ascoltarti e sono contenta che sei il nostro ospite per ben la seconda volta e lascio a te la parola nel frattempo io mi dedico alle domande finito il tuo intervento faremo vedere il video che tu hai preparato e poi continuiamo con la serata va bene va benissimo grazie a te la parola grazie a te pierre grazie allora buonasera a tutti sono molto felice di essere di nuovo qua in onda con il giardino dei libri e questa sera vorrei parlare della dell'importanza del consumo del sale integrale ma anche dell'acqua di mare difatti il titolo del libro non cita l'acqua di mare e sarebbe giusto modificare il titolo e mettere associare anche l'acqua di mare associare anche l'acqua di mare allora perché è importante il consumo dell'acqua di mare perché rené canton un biologo ha scoperto che la composizione della dell'acqua di mare è esattamente identica alla composizione del di tutti i liquidi corporei tutti sappiamo che nel corpo abbiamo circa 80 per cento di liquido e questi liquidi se andassimo mi prende venissi preso messo in un torchio schiacciato nel torchio e si estrasse il liquido dal mio corpo e poi da questo liquido si estrasse il sale chi analizzerebbe il sale senza sapere che proviene dal mio corpo direbbe che si tratta di un sale estratto dal mare di un sale integrale di un sale marino integrale questo perché la composizione del 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 liquido che abbiamo nel corpo è esattamente identica alla composizione che abbiamo nell'acqua di mare quindi la quantità di sodio rispetto alla quantità di cloro rispetto alla quantità di potassio rispetto alla quantità di maniegio rispetto alla quantità di calcio e rispetto alla quantità di tutti gli oligoelementi è esattamente identica sia nel corpo umano o nel corpo di tutti gli animali viventi che nel in tutti i mari di fatti c'è una una legge di un certo ditmar che dimostra che in tutti i mari di tutto il mondo la composizione è sempre identica si parla ovviamente di mari aperti quindi il mar morto per esempio non fa testo perché è un mare chiuso dove la composizione viene alterata ma se prendiamo tutti i mari aperti e tutti gli oceani hanno tutti esattamente la stessa composizione esattamente come c'è nel corpo umano la differenza che possiamo trovare è che nel corpo umano abbiamo una concentrazione che non è la composizione che è la concentrazione di 9,5 grammi per chilo o per litro invece nei mari abbiamo a seconda delle latitudini abbiamo delle composizioni diverse per esempio nel mar rosso arriviamo a concentrazioni di 38 grammi di sale per litro nel mar mediterraneo andiamo su 36 grammi per litro negli oceani in genere andiamo a 35 grammi per litro ma se ci avviciniamo ai poli per esempio nel mar baltico arriviamo a delle concentrazioni di 10-15 grammi per litro quindi questa è la differenza tra la composizione e la concentrazione e perché il sale è importante per il nostro corpo perché proprio la vita è nata in una salamoia calda questo è dimostrato non solo da canto ma da tantissimi biologi che dimostrano che la vita è nata in un ambiente marino e la meraviglia della scoperta di canton è che mostra la costanza ha stabilito la legge della costanza salina che vuol dire che le nostre cellule hanno avuto una memoria attraverso tutta la filogenetica la filogenetica vuol dire l'evoluzione delle cellule che si sono perfezionate sempre di più creando delle specie nuove però le cellule hanno sempre mantenuto la loro origine la loro caratteristica e quindi si sono organizzate per creare una specie di acquario fatto dalla pelle la nostra pelle che è semi permeabile e che permette di mantenere all'interno del corpo umano un'acqua salata e guarda caso ha mantenuto nel corpo in questo acquario ha mantenuto un'acqua salata che ha esattamente la stessa composizione dell'acqua che c'era in origine nel momento in cui è nata la vita e quindi questo è una delle leggi che canton ha stabilito che è la legge della costanza di salinità ma canton ha anche stabilito una legge di costanza di termica di temperatura perché infatti noi ha il nostro corpo ha una temperatura interna di 37 38 gradi però le nostre cellule hanno una memoria di una temperatura nella quale sono nate di 43 44 gradi ed è il motivo per il quale quando siamo ammalati il nostro corpo il nostro sistema il sistema del nostro organismo cioè le nostre cellule ricordandosi che l'ambiente ideale nel quale sono nate aveva una temperatura di 43 gradi e mezzo quasi 44 ci portano cercano di elevare la temperatura del corpo portandola il più vicino possibile a questi 43 gradi e mezzo in modo che a questa temperatura le cellule patogene muoiono e le cellule invece riescono a rigenerarsi e a sanificarsi questo è d'altronde uno dei motivi per i quali nelle terapie cosiddette complementari o alternative si usa anche la ipertermia la ipertermia è consigliata in tanti casi di patologie gravi e anche in casi di patologie tumorali anche la sauna anche il bagno turco sono consigliati perché permettono di elevare la temperatura corporea avvicinandola il più possibile a questi 43 44 gradi ovviamente bisogna tenere presente che nell'evoluzione delle specie nella filogenetica il corpo l'organismo ha sviluppato in un secondo tempo la parte della corteccia cerebrale e la corteccia cerebrale è stata sviluppata in un momento in cui le temperature erano diverse e la corteccia cerebrale difficilmente sopporta sostiene delle temperature che superano i 42 gradi e per questo che è molto importante se una persona è malata di consentire di avere la febbre ma di stare attento a che la testa non vada al di sopra di 41 gradi e mezzo 42 gradi quindi sicuramente proteggere la calotta cranica con delle borse di ghiaccio o con dei panni bagnati in modo che la temperatura non possa mai superare la i 42 43 gradi a questo anche per evitare la formazione di meningiti e la meningiti come come lo spiega anche il dottor con le leggi biologiche le meningiti scusate per il cane che ha fatto che ha abbaiato avrà sentito un animale fuori e le meningiti sono proprio il fenomeno di protezione che vuole sviluppare il cervello per proteggersi da un attacco per le cellulo esterno per le cellulo esterno per le cellule del cervello un eccesso di temperatura esterna come fosse anche una botta un colpo molto forte sulla testa genera un ispessimento della pelle interna del cervello che sono le meningi e questo provoca il problema della meningite Allora possiamo anche dire parlando ancora della questione della temperatura della legge della costanza anche termica che sopra i 44 gradi la vita muore e quindi sopra 44 gradi non abbiamo più enzimi e non abbiamo più vitamine E' per questo che è molto importante nell'alimentazione il crudismo oppure la cottura al vapore dove le temperature sono inferiori a 44 gradi Per esempio c'è il famoso pane degli esseni che si trova anche spiegato nel Vangelo degli Esseni o il Vangelo della pace dove Gesù spiega che per fare un pane sano bisogna farlo con delle farine di grani germogliati E bisogna cuocere il pane al sole in modo che non vengano distrutte la vitalità non venga distrutta la vitalità dell'alimento Allora nel corpo umano ovviamente o l'ho detto abbiamo una concentrazione inferiore di quindi una concentrazione di 9,5 Quindi se noi vogliamo usare l'acqua di mare senza dare degli scossoni al corpo umano dobbiamo creare delle soluzioni isotoniche Isotoniche vuol dire con la stessa concentrazione salina di quello che abbiamo nel corpo Per esempio le soluzioni fisiologiche usate universalmente negli ospedali sono isotoniche Per fare dall'acqua di mare dei nostri mari mediterranei una soluzione isotonica ci sono due soluzioni O prendere tre quantità di acqua di sorgente con una quantità di acqua di mare e quindi otteniamo 36 grammi diviso 4 e otteniamo 9 Oppure Canton consigliava di prendere 5 quantità di acqua di sorgente con due quantità di acqua di mare e in questo modo Canton creava quello che dopo è stato chiamato il plasma di Quinton Questo plasma di Quinton si può anche reperire sul mercato in farmacia si può comprare delle fiale che si chiama Quinton Queste fiale di Quinton sono vendute in ampolle di vetro bevibili però come spiegherò dopo vengono anche usate molto sotto forma iniettabile e c'è la versione isotonica e la versione ipertonica Perché acqua di sorgente e non acqua distillata? Perché l'acqua di mare ha una valenza energetica L'acqua di mare fresca ha un potere antibiotico che è stato verificato, cosa che spiego e dove do dei riferimenti nel mio libro E l'acqua di sorgente ha anche essa un potere energetico e quindi abbinando l'acqua di sorgente a acqua di mare Abbiamo un'acqua viva che ha un'energia e che ha un potere antibiotico Se lasciamo l'acqua di mare esposta all'aria dopo 3, 4, 5 giorni perde il suo potere antibiotico Se invece viene racchiusa ermeticamente in una fiala di vetro lo conserva praticamente eternamente Quindi questa è l'importanza del plasma di Quinton Qualcuno potrebbe dirmi sì ma se tu aggiungi dell'acqua di sorgente vai a modificare la quantità dei minerali Allora la quantità di minerali che ci può essere nell'acqua di sorgente è molto infima rispetto alle quantità di minerali che ci sono nell'acqua di mare E ovviamente si cercherà di prendere un'acqua di sorgente di tipo oligominerale Oligominerale vuol dire pochi minerali in modo da non alterare la composizione dell'acqua di mare Allora c'è chi potrebbe dire che l'acqua di mare è inquinata, che ha un inquinamento chimico Allora ci sono due tipi di inquinamenti, c'è l'inquinamento chimico e c'è l'inquinamento batteriologico L'inquinamento batteriologico non sussiste, è stato dimostrato da varie prelievi che sono stati fatti e analizzati A 300 metri dalle coste non c'è più inquinamento batteriologico A meno di essere nella foce di un fiume o di una fognatura A 300 metri già l'acqua di mare sviluppa il suo potere antibiotico Rimane però l'inquinamento chimico L'inquinamento chimico può sussistere, però l'inquinamento chimico generalmente si suddivide in due caratteristiche Dell'inquinamento di tipo oleoso che galleggia in superficie E degli inquinamenti di particelle che vanno al fondo Quindi se andiamo a prelevare dell'acqua di mare A largo delle coste, tipo a 300 metri dalle coste E andiamo a prenderla a 30 metri di profondità Non abbiamo praticamente nessuna possibilità di prendere inquinamento chimico Ed è lì, proprio lì, che vanno a prelevare l'acqua per fare il plasma di Quinton Per garantire la purezza di questo plasma E garantire che possa essere usato come forma anche iniettabile Anche se il protocollo medico non lo consente più Ma bisogna dire che fino agli anni 85, 1985 Il plasma di Quinton faceva parte della farmacopea ufficiale E quindi era riconosciuto come iniettabile Solo che per motivi economici e di ripristino di autorizzazioni molto costose I fabbricanti, gli eredi di Quinton Non hanno più rinnovato la versione iniettabile E hanno lasciato solo quella bevibile Però tantissimi medici o naturopati Quando all'estero soprattutto Utilizzano queste fiale in forma iniettabile anche Allora ci sono gli esperimenti di Quinton Quinton, che in francese si dice Quinton Quinton ha fatto vari esperimenti Soprattutto con dei cani E sostituiva il terzo del sangue di un cane Con acqua di mare isotonica Resa isotonica E aveva dei miglioramenti strepitosi Della salute del cane Ha anche fatto degli esperimenti di sopravvivenza Di globuli bianchi nel plasma di Quinton E ha visto che i globuli bianchi Possono vivere e riprodursi tranquillamente Nell'acqua di mare resa isotonica E' arrivato anche a dissanguare totalmente un cane Finché aveva anche perso il riflesso corneo E dopo ha riintegrato il volume liquido Nelle arterie, nelle vene di questo cane E dopo due giorni di pseudocoma Questo cane si è ripreso totalmente E il suo sangue si è completamente rigenerato E il cane era più in salute di prima E quindi dopo Quinton Con tutti, diciamo Era un personaggio molto conosciuto Era un biologo, non era un medico Ma aveva tantissimi Chiamiamoli seguaci medici E Quinton veniva chiamato Negli ospedali di Parigi Quando c'era una persona Che aveva ricevuto l'estrema unzione In quei tempi Quando una persona riceveva l'estrema unzione Era quando il medico diceva Ormai non c'è più niente da fare Questa persona nel corso della notte morirà Allora chiamavano Quinton Quinton toglieva a questa persona Un terzo del suo sangue Lo sostituiva con acqua di mare resa isotonica E l'indomani mattina Miracolo La persona era seduta nel suo letto Risanata che leggeva il giornale E queste persone guarivano Nel libro cito Dei riferimenti di queste guarigioni Miracolose che ha fatto Quinton Quinton è anche stato In Egitto E in Egitto ha Con le sue soluzioni Saline Ha fermato Una epidemia di colera Ed è stato salutato da tutta la marina militare egiziana Quando ha lasciato l'Egitto Come riconoscimento dei suoi meriti Allora Questo mi fa dire Che uno dei delitti più grandi Che si cantò nei suoi esperimenti Scusate Scusate Ha fatto anche esperimenti Nei quali faceva la stessa sostituzione Del sangue Con acqua Fisiologica Con acqua Plasma di Quinton E ha visto che Se metteva Soluzione Fisiologica Come quella che diamo Negli ospedali Invece Dell'acqua di mare Isotonica I cani morivano E questo mi fa dire Che è veramente Un delitto Della medicina ufficiale Usare le soluzioni Fisiologiche Come loro le propongono Perché la soluzione Fisiologica Non è altro che Acqua distillata Alla quale Hanno aggiunto Del cloruro di sodio E basta Con una concentrazione Di cloruro di sodio Che sarebbe il sale raffinato Che arriva Al nove e mezzo per cento O al nove per cento Per mille scusate Quindi nove grammi per litro Questa soluzione È Malsana Perché Non rispetta L'equilibrio naturale Che dobbiamo avere nel corpo Tra Il sodio E il potassio Principalmente Se io ho una persona Che è in ospedale E che è fortemente malata Se faccio riferimento Alla medicina Cinese Questa persona È in uno squilibrio Yin Yang E quindi Se questa persona In ospedale Ha un eccesso Ha un eccesso Di Yang E io vado a darle Metterle in vena Una soluzione Fisiologica Con ricca Di sodio E senza potassio Aumento E squilibrio Ancora di più Questa persona Nello Yang E quindi Invece Di aiutarla A sopravvivere Le metto Dei bastoni Ne ruote Alla sua Sopravvivenza E alla sua guarigione Quindi ritengo Che sia veramente Un delitto Con le conoscenze Mediche Che abbiamo Di usare Questo tipo Di soluzione Fisiologica D'altronde Adesso C'è in commercio E viene usata Soprattutto Per i bambini Con un formato Più piccolo Una soluzione Che viene chiamata Soluzione Elettrolitica Reidratante Che viene usata Come Soluzione Fisiologica Per i bambini Questa soluzione Elettrolitica Reidratante Contiene Potassio Calcio Magnesio Quindi È già Molto più Salutare Di una soluzione Fisiologica Chimica E squilibrata Quello che si può Comunque Osservare È che Questa Soluzione Elettrolitica Reidratante Non integra Lo iodio Lo iodio Sarebbe Molto Importante E ne parlo Nel mio libro Dell'importanza Dello iodio E quindi Sarebbe Molto Opportuno Che i fabbricanti Di questa Soluzione Elettrolitica Reidratante Includessero Oltre al potassio Calcio Magnesio Anche La percentuale Giusta Di iodio Che È presente Naturalmente Nell'acqua di mare O è presente Quando noi Comperiamo Il sale Raffinato Iodato Le industrie O il ministero Della salute Ha fatto Aggiungere Nel sale Dello iodio E la quantità Di iodio Che è stata Aggiunta Nel sale Raffinato È esattamente La quantità Di iodio Che ci sarebbe Naturalmente In un sale Prelevato Naturalmente Dal mare E quindi È molto Importante Considerare L'utilità Di avere Un sale Completamente Equilibrato E consumare Sale Marino Integrale Che generalmente È il sale Oceanico Francese Però Ci sono anche Ottimi sali Marini Italiani Tra cui Il sale Gicervia È anche Importante Consumare Dell'acqua Di mare L'acqua Di mare Nel mio libro Spiego Dove si può Reperire Purtroppo Nell'indice Manca proprio La voce Di dove Posso Reperire L'acqua Di mare E manca L'indicazione Che si trova Che questo Elenco Si trova A pagina 53 A pagina 53 Del mio libro È spiegato Come ci si può Rifornire Di acqua Di mare Tra i principali Produttori Di acqua Di mare In Italia C'è La sterralmar La sterralmar È una ditta Della zona Di Ancona Che fa Dei bidoni Di acqua Di mare Però Recentemente Ho scoperto Anche L'esistenza Di Della ditta Marentia Marentia E questa Questa ditta Ha Eccola qua Questa ditta Produce Dei prodotti Di Acqua di mare Confezionata Con Diciamo Una Una confezione Molto carina Molto bella I prodotti Sono leggermente Più cari Di quelli Della sterralmar Però Comunque L'acqua di mare In Sia Da Marentia Che da Sterralmar Ha dei prezzi Assolutamente Abbordabili Perché Andiamo Da un prezzo Al litro Di Tre euro A prezzi Anche di Un euro E cinquanta Quindi Insomma È un prezzo Assolutamente Conveniente E Possiamo Consumare Quest'acqua Per curare Tantissime cose Se andate Su Purtroppo In italiano Non c'è Non ci sono Testimonianze Non c'è Tanta Tante Testimonianze Su Youtube Anzi Non ce ne sono Però Se andate In lingua Spagnola Dove Tutti i paesi Che parlano Lo spagnolo Dalla Spagna All'America Del sud Io Per esempio Vado spesso In Perù Sono stato Anche a Cuba Anche a Cuba E In questi paesi Si fa Grande uso Di acqua Di mare E Loro In Perù Consigliano O in Nicaragua Consigliano Un consumo Fino a Un mezzo litro Di acqua Di mare Ipertonica Vuol dire Non Resa Isotonica Per guarire Testimonianze Dei meriti D'acqua di mare Con delle iniezioni Oppure se andate su Agua del mar Testimonios Quindi Testimonios Vi troverete Tantissime Testimonianze Di persone Che sono guarite Dalle patologie E più diverse Andando a consumare Grandi quantità Di acqua Di mare Nel mio libro Io cito Anche Degli interventi Fatti Da Un mio amico Che purtroppo È deceduto Un medico Di origine Siriano Che Praticava L'uso Di acqua Di mare Anche Di soluzioni Saline Anche A livello Endovenoso E che Ha fatto Delle guarigioni Incredibili Di cui Cito Due articoli Nel Nel mio libro Si possono Veramente Fare Delle cose Meravigliose Utilizzando L'acqua di mare Sotto forma Di iniezione O anche Bevendola A questo Proposito C'è anche Il libro Di Francisco Martin Vediamo Se riesco A mostrarlo E Eccolo qua Agua De mar Bere Acqua Di mare Amher Che è Un libro Che è anche Disponibile Dal giardino Dei libri È scritto Da Francisco Martin E Eccolo qua Francisco Martin E in questo libro È molto carino Perché Con dei Disegnini Spiega Il campo Di applicazione Dell'acqua Di mare Bevuta E sotto forma Di iniezioni E Illustra Anche Delle Delle altre Applicazioni Che sono state Fatte E spiega Come fare Queste iniezioni Sottocutane Soprattutto Agli animali Personalmente Ho fatto Varie E vari Interventi Di Iniezioni Sottocutane A dei cani O dei gatti Che erano In punto Di morte Alcuni Dovevano Essere Subire L'eutanasia E allora Il veterinario Ha provato A fare Queste iniezioni Sottocutane Di Acqua Di mare Di plasma Di Quinton E questi Gatti O questi Cani Si sono Ripresi In modo Straordinario Quindi È veramente Molto Interessante Conoscere E applicare Questi usi Dell'acqua Di mare Dopo C'è Il problema Della Ipertensione Perché Diciamo L'obiezione Principale Che viene Fatta E Il sale Fa male Perché Il sale Provoca Ipertensione Allora Nel libro Spiego Ampliamente Che questo Non è Vero C'è Anche Un Cardiologo Che si Chiama Di Nicolantonio Questo Cardiologo Ha fatto Un libro Meraviglioso Che purtroppo È solo In inglese Che ha Come titolo The salt Fix Quindi Il valore Di sale Che deve essere Fissato Che è stato Fissato Per legge The salt Fix E In questo libro Lui smonta Completamente Tutta questa Leggenda Metropolitana Riguardante Il fatto Che il sale Fa male Il sale Fa male Sì Il sale Fa male Però Il sale Che troviamo In commercio Dove Se guardate Bene Sul pacchetto C'è scritto Sale Estratto Dal mare Raffinato E con l'aggiunta Di antiaggregante A volte addirittura Con l'aggiunto Di un prodotto Sbiancante Questo sale Fa male Perché Di nuovo Come la soluzione Fisiologica È un sale Che va A squilibrare Il corpo E il corpo Umano Quando riceve Una dose Eccessiva Di sodio Ma non riceve La corrispondente Dose Di potassio Il corpo Fa una ritenzione Idrica Una ritenzione Idrica Che si traduce In un aumento Della pressione Corporea Sanguinea Corporea Per compensare E diluire Questo eccesso Di sodio Che è stato Ricevuto Però ci sono Numerosissimi Studi Che sono Boicottati Dai media E dalla medicina Ufficiale Che mostrano Che questo Fenome Di ipertensione Non Non sussiste Quando c'è Un corrispondente Apporto Di potassio E c'è Anche questo Studio Di un certo Menili Nel 1977 Dove lui Ha veramente Mostrato Che Ha fatto Uno studio Nel quale dice Il sale Fa male Ma se io Aggiungo Il potassio Non fa più male E i media Che hanno Di nuovo Strumentalizzato I suoi studi Hanno divulgato Che lui Aveva detto Il sale Fa male In realtà Lui ha detto No Il sale Non fa male Quando Viene Aggiunto Il potassio Anzi Fa anche bene E lo studio Iniziale Sulla Nocività Del sale Risale Al 39 Di un certo Kempner Lo spiego Dettagliatamente Nel libro Ma praticamente Questo Kempner Ha preso Un numero Di 560 Persone Che erano Tutte Obese Che avevano Ipertensione E Gli ha Fatto Una Dieta Di Puro Riso Riso Senza sale E Praticamente Queste persone Un po' Meno Dei Due Terzi Quindi Un po' Meno Un po' Più Della Metà Di Queste 560 Persone Sono State Meglio Con Questa Dieta Del Riso Che Non Era Salato E Da qui Hanno Concluso Che Grazie Al Fatto Che Quello Che Era Colpevole Della Loro Ipertensione Era Il sale In Realtà Queste Persone Erano Obese Per Tutta Una Serie Di Fattori Di Cattiva Alimentazione E Ovviamente Andando Alimentarli Con Una Dieta Esclusivamente Di Riso Queste Persone Hanno Regolarizzato Tutti I Loro Valori Interni E Ovviamente Diminuendo Di Peso E Stabilendo Un Miglior Fisico La Loro Ipertensione È Diminuita Però Non Era Da Attribuire All'assenza Di sale Nella Loro Dieta In Più Sui 500 Ci sono Circa 300 Persone Che Hanno Avuto Beneficio Da Questa Dieta Ma Ce Ne Sono 150 Che Al Contrario Hanno Peggiorato La Loro Ipertensione Ma Di Nuovo I Media Hanno Completamente Strumentalizzato Questa Ricerca E Questa Ricerca È Diventato Il Punto Di Riferimento Di Tutte Le Ulteriori Ricerche Quindi Bisognerebbe Andare A Esaminare Esattamente Cosa C'è Di Vero In Quello Che Ci Viene Detto Per Quanto Riguardo Il Piombo Il Mercurio Che Ci Può Essere Nei Mari Bisogna Dire Che La Quantità Di Piombo Mercurio Che Ci Potrebbe Essere Nell'acqua Di Mare O Nel Sale Assolutamente Trascurabile E Che Ce N'è Sicuramente Di Più Nelle Acque Minerali Che Noi Beviamo E Dove Non Viene Fatta La Misura Di Piombo E Mercurio Basta Pensare A Tutto Piombo Che Viene Rilasciato O Veniva Rilasciato Perché Adesso Da Quello Che Mi Hanno Detto Le Cartucce Dei Cacciatori Non Hanno Più Un Vero Piombo Ma Hanno Altri Metalli Ma Mi Ricordo Che C'era Un Ricercatore Che Ha Calcolato La Quantità Di Piombo Che Veniva Immessa Nella Natura Solo Dalla Caccia E Questa Quantità Era Molto Superiore Vetture Vernici E cose Del Genere E Quindi Assolutamente Non Si Può Accusare L'acqua Di Mare O Il Sale Marino Integrale Di Essere Vettori Di Piombo E Mercurio Quello Che Si Si Può Dire E Che I Pesci Grandi Carnivori Possono Avere Degli Eccessi Di Piombo E Mercurio Perché Perché Loro Mangiano Dei Pesci Più Piccoli E I Pesci Più Piccoli Mangiano Dei Vegetali Del Plankton Ovviamente Nei Vegetali C'è Una Piccola Quantità Di Mercurio E Di Piombo Che Si Va Ad Accumulare I Pesci Mangiano Questi Si Nutrono Di Questi Vegetali E Quindi Concentrano La Quantità Di Mercurio E Piombo Nell' Organismo Però Poi Quando Vengono Mangiati Dai Pesci Carnivori Quindi Dalli Pesci Più Grossi Tipo Il Tonno Questi Pesci Vanno A Ulteriormente Concentrare La Quantità Di Piombo E Mercurio E Per Questo Che Nei Alcuni Pesci Grandi Grandi E Carnivori Possiamo Trovare Dele Concentrazioni Di Piombo E Mercurio Abbastanza Più Elevate Mi Fermo Più O Meno Qua Però Voglio Accennare All'importanza Anche Degli Ormus Ho Scoperto Recentemente Questi Ormus Ed È Una Cosa Strepitosa Magica Che Richiederebbe Uno Studio Molto Approfondito L'unica Cosa Che Io Posso Dire È Che Questi Ormus Sono Una Polvere Bianca Che Si Può Facilmente Estrarre Dall'acqua Di Mare Nel mio Libro Spiego Come Si Può Fare E Che Ha Delle Proprietà Incredibili Sulla Salute E Potenzia La Crescita Dei Vegetali E Anche Il Ringiovanimento Degli Esseri Umani Lo Accenno Con Qualche Foto Nel Mio Libro E A A Questo Proposito Ho Fatto Un Piccolo Video Che Adesso Vi Verrà Mostrato E Che Conclude Diciamo Il Mio Intervento Dopo Sono Disponibile Ovviamente Per Rispondere A Tutte Le Domande E Sicuramente Con Le Domande Potrò Approfondire Alcuni Degli Argomenti Ai Quali Ho Accennato Durante Questa Mia Presentazione Grazie E Buona Visione Di Questo Piccolo Video Circa Tre Anni Fa Ho Piantato Questo Albero Che È Un Castagno E Ho Piantato Nello Stesso Giorno Questo Castagno Qua E Quest'altro Castagno Che È Lì Quello Lì Questi Castagni Erano Della Stessa Dimensione Quando Li Ho Piantati Vedete Questo Qua Questo Qua Più O Meno Sarà Alto Un Due Metri Al Massimo E Come Vedete Non Ha Nessun Frutto Quest'altro Invece Qua Giù Sarà Più Di Tre Metri E Si Può Vedere In Cima Che Ha Delle Castagne Qua Vedete Qua Le Castagne Allora Qual è la differenza Tra questi due alberi Questi alberi Sono stati Uno Trattato Con Deli Ormus Tutto il primo anno Dopo Sono stati trattati In modo Uguali E Questo qua Si è sviluppato Molto di più Questo è semplicemente Un esperimento Che ho fatto Perché non ho continuato Con gli Ormus Perché Non avevo il tempo Di dedicarmi A produrre Degli Ormus E A Darli All'albero Ma Mi è bastato Un anno Per rendermi conto Della Differenza Di Evoluzione Quindi Questo qua È Quello grande E Quello laggiù In fondo E Quell'altro Che è Il più piccolo Noi qui siamo A Valdibruccia Valdibruccia E in questo posto In Provincia Di Arezzo Dove Facciamo Percorsi Di Disintossicazione Ospitiamo Dei gruppi E Ospitiamo Anche Individui Che Vogliono Seguire O Imparare Le leggi Biologiche Oppure Condividere Anche Consigli Di Alimentazione Di Detossinazione E che Vengono Da Noi Per Dei Soggiorni Soprattutto Di Detox Ecco Questo Semplicemente Era per Farvi Vedere Quanto Gli Ormus Possono Essere Semplici Da Applicare E E E E E E E E Io Sono Pier Pier Pellizzari E Sicuramente Mi Conoscete Tramite I miei Libri E Mi Occupo Di Questo Borghetto Assieme A Mia Moglie Ilma Ilma 40 Siamo Tutti E Due Naturopadi Questo È Il posto Dove Stiamo Assieme Durante Le giornate Oggi Siamo Fortunati Perché Il tempo È Bellissimo La strada Per arrivare Qua È stata Rifatta E È una strada Bianca Però Facilmente Percorribile Sono Tre Km Di Strada Bianca Qui Avete Le indicazioni Per Delle Passeggiate Grazie Per l'attenzione Eccoci Pier Mi senti Che bel Video Sì Grazie Pier Grazie di cuore Veramente Per questo Tuo Prezioso Intervento È stato Davvero Tutto Molto Interessante E soprattutto Grazie Per aver Condiviso Queste Preziosi Informazioni Spiegate Perfettamente E Veramente Anche Grazie A questo Video Che ci hai Fatto Vedere Di Val Di Brucia Vuoi Dire Qualcosa No Diciamo Che Penso Di aver Accennato Un po' A tutti Gli Aspetti Dell'importanza Del sale L'ho Fatto In modo Riassuntivo E Quindi Spero Che Questo Abbia Stuzzicato L'interesse La curiosità Delle 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 Persone Che Sono Qua Presenti E Quindi Che Scrivano Che Facciano Delle Domande Interessanti Gli Ormus Anche Questo È Un po' Una Provocazione Una Cosa Veramente Molto Importante Per L'Italia È Una Cosa Quasi Innovativa Gli Ormus Sono Pochissimo Conosciuti In Italia Mentre Nei Paesi Anglofoni O Quelli Che Parlano Di Lingua Spagnola Gli Ormus Sono Conosciutissimi Ci Sono Numerosi Seminari Sulla Produzione Di Ormus E Sulla Vendita E La Diciamo Le Caratteristiche Magiche Degli Ormus Perché Gli Ormus Diventano Dei Super Conduttori Degli Strumenti Di Telepatia Cioè Ci Sono Tantissimi Aspetti Incredibili Su Questi Ormus Che Vanno Approfonditi Ovviamente Sono Negati Da Wikipedia O Da Media Dello Stesso Tipo Ma Sappiamo Che Questi Media Fanno Una Selezione Mirata E Quindi Non Dobbiamo Farci Impressionare Da Queste Smentite Che Ci Possono Essere Su Questi Tipi Di Media Bene Senti Piero Grazie Anche Di Averci Mostrato Questo Bellissimo Video Dei Val Di Brugia Io Ho Promesso Che Ti Vengo A Trovare So Che Questo Inverno Sei Lì Vediamo Se Riesco Bene Allora Sono Arrivate Tante Domande Stanno Arrivando Ancora Tantissime Domande Per Te Prima Di Lasciare Spazio Spazio Le Domande Volevo Ricordare Che Il Il Sale Integrale Rimedio Antico Magico Eterno Con L'Alchimia Degli Ormus Lo Potete Acquistare Sul Giardino Dei Libri www.ilgiardinodeilibri.it Eccolo qua Che Ve lo Faccio Vedere Ha Ben 126 Pagine E Scontato Costa 14 E 25 Centesimo E Prima Dicevo Che Per Tutti I Clienti Del Giardino Dei Libri Che Acquista Il Libro Il Sale Integrale Avrà Un Omaggio Offerto Da Noi Del Giardino Dei Libri Con La Collaborazione Preziosa Di Pierre Eccolo Qua Faccio Vedere Se Si Vede Bene Abbiamo Messo Anche Una Slide E Un Estratto Purissimo Del Mare Profondo Limpido Della Sardegna Del Valore Di 8 Euro E Noi Lo Regaliamo Se Acquistate Il Libro Di Pierre Questa Sera Veramente Un Ottimo Regalo Non Contiene Micro Organismi O Sostanze Nocive Per La Salute Ed 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 Idoneo Al Consumo Umano E Questo Prodotto Non È Solo Buono E Semplice Ma È Anche Molto Salutare Ricco Di Minerali E Oligo Elementi Capace Di Purificare L'organismo E Stimolare Il Sistema Immunitario Insomma Un Prodotto Che Non Può Mancare Giusto Pierre Cosa Vogliamo Aggiungere Allora Questo Prodotto È Una Confezione Anche Molto Carina Sembra Proprio Un Profumo Da Come È Confezionato È Veramente Bello E È Molto Utile Perché Questo Spray Di Acqua Di Mare Può Essere Usato In Modo Topico Per E Per 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 Se Sveglia Con La Gola Troppo Secca Si Spruzza Nella Gola Un Po Di Questa Acqua Di Mare Oppure Se Siete Punti Da Una Zanzara Mettete Subito Una Spruzzatina Di Quest' Acqua Di Mare Vedrete Che Diciamo Il Punto In Cui Siete Stati Punti Diminuirà Moltissimo Di Intensità Su Una Ferita Come Disinfettante E Eccellente Potete Vedere Anche Un Video Di Una Ragazza Che Vi Incoraggia A Farvi Delle Sempre In Lingua Spagnola Che Incoraggia A Farsi Delle Auto Iniezioni Di Acqua Di Mare E Come Dove Le Soluzioni Saline Vengono Ampliamente Utilizzate Bene Per cui Procedendo Con L'Ordine Lo Vedrete Apparire Nel Carrello Come Omaggio Logicamente Attenzione Perché Fino Esaurimento Scorte Ne Abbiamo Solo 300 Ripeto Lo Potete Avere Acquistando Il Libro Il Sale Integrale Di Pierre Pellizzari Sul Giardino Dei Libri Bene Pierre Allora Ora Passerei Alle Domande Che Ne Sono Veramente Arrivate Tante Ok Continuiamo Si 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 Volentieri Allora Fino a mezzanotte No Inizio subito Con Sabrina Sabrina Ti domanda Prendere Ogni mattina A digiuno Acqua di mare Delle ditte Consigliate Può curare Gastrite E colite Sicuramente Può fare Un Può dare Un grande Beneficio A una Gastrite E una colite Non bisogna Dimenticare Che L'acqua Di mare Ha un pH Naturale Di Superiore A 7 Quindi È un'acqua Basica Quindi Una gastrite Che è dovuta A una Ulcerazione A uno Squilibrio Diciamo In direzione Acidificante Dello stomaco Viene sicuramente A trarre Un grande Vantaggio Dal consumo Di Acqua Di mare Per quanto Riguarda La colite Diciamo Che L'acqua Di mare Ha tendenza A purificare E a creare Ovviamente Delle scorie Quindi Se una persona Ha Dei parassiti O ha Dei problemi A livello Intestinale Può darsi Che L'acqua Di mare Lo porterà Tendenzialmente Più Verso Una Diarrea Però È sempre Con uno Scopo Diciamo Curativo E riequilibrante Bene Grazie Per Per questa Tua risposta Passiamo Con la Domanda Di Lara Quanti Grammi Al giorno Di sale Marino Integrale Va Assunta Allora Allora Lì c'è tutta Una polemica Che Diciamo È anche Illustrata Nel libro Perché Nel corso Degli anni L'organizzazione Mondiale Della salute Ha fatto Tantissime Variazioni Nelle quantità Di sale Che sono Raccomandate Sempre Basandosi Sul sale Raffinato Purtroppo Quindi Loro Si basano Soprattutto Sull' Sull'importanza Del cloruro Di sodio E Sono Passati Da Una Raccomandazione Di 1,5 Grammi Al giorno A Una Raccomandazione Di 0,5 Quando Hanno Dato Questa Raccomandazione 0,5 Sono Successi Dei Disastri A livello Mondiale Nella Popolazione E Quindi Hanno Riportato Questa Concentrazione A 1,5 Poi In un momento Successivo L'hanno Portata A 3 E qualcosa E quindi Non c'è Grande Chiarezza Secondo Il Dottor Catrib Sicuramente Bisogna Consumare Sui 6 Grammi Al giorno Personalmente Ritengo Che 6 Grammi Al giorno È Un'eccellente Quantità Di sale Vuol dire Praticamente Un cucchiaio Un cucchiaino Da caffè Raso Questo Sono Più o Meno 6 Grammi Sono Tanti Ma Sono Importanti Soprattutto Per le Persone Che Decidono Di Diventare Vegane Perché Bisogna Capire Che Come Ho Spiegato In Tutti I Liquid Corporei Degli Esseri Viventi C'è Questo Sale A ragione Di 9 Grammi Per Litro O Per Chilo Quindi Se Io Mi Alimento Supponiamo Che Sono Un Bevitore Di Latte E Ogni Giorno Bevo Un Mezzo Litro Di Latte Bevo La Metà Di 9 Grammi Di Sale Quindi Bevo 4 Grammi E Mezzo Di Sale Al Giorno Se Tutto Ad Di Questi 4 Grammi E Mezzo E Quindi È Un Delitto Verso Il Mio Corpo Che Ha Bisogno Di Sale E Nella Mia Esperienza Sicuramente Bisogna Stare Attenti A Mantenere Un Apporto Di 6 Grammi Al Giorno E Questo Sale Può Essere Ingerito Sia Con Il Beverone Di Cui Parlo Nel Nel Mio Libro Ripulire I Propri Organi Che È Questa Miscela Di Sale Marino Integrale Miele Limone E Acqua Oppure Può Essere Inserito Proprio Come Delle Pillole Prendendo Del Sale Mettendolo Sulla Lingua E Bevendo Acqua Oppure Andando Per Quelli Che Sono Fanatici Dei Due Litri Di Acqua Al Giorno Mettono I Loro 6 Grammi Di Sale In Due Litri Di Acqua E Avranno Un'acqua Leggermente Salata Piacevole Da Bere E Così Consumeranno I Loro 6 Grammi Di Sale Va Detto Che Non C'è Un Eccesso Cantò Cantò Ha Fatto Un 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 Esperimento E Mi Pare Che In Tre Lo Cito Nel Mio Libro Mi Pare Che In Tre Ore Di Tempo Ha Inserito In Endovena Dieci Litri Di Soluzione Salina A Un Animale E Ha Potuto Misurare Che Il Corpo Dell'animale L'organismo Dell'animale Ha Eliminato La Quantità Di Sale In Eccesso I Reni Non Hanno Subito Nessun Danno E Il Cane Ha Guadagnato In Vitalità E In Salute Quindi Non Ci Sono Valori Di Eccesso Di Consumo Di Sale Personalmente Io Ho Partecipato A Un Esperimento Del Dottor Catrib Che Mi Aveva Messo In Vena 350 Millilitri Di 350 Cc Di Soluzione Salina Al 70 Per Mille Di Sale Quindi Il Doppio Della Soluzione Ipertonica Nel Giro Di Circa Due Ore Un'ora E Mezza Mi Ha Messo Quest'acqua Come Flebo E Non Ho Avuto Nessun Effetto Collaterale Nessun Effetto Dannoso Contrariamente A Quello Che Qualsiasi Medico Avrebbe Avrebbe Proclamato Bene Grazie Di Queste Tue Risposte Voglio Passare Con Elio Elio Ti Domanda Come Fa L'acqua Di Mare A Essere Microbiologicamente Pura Micro Filtrata Come Fa Lo Fa Con Dei Filtri Che Sono Abbastanza Fini Da Poter Fermare Dei Batteri Patogeni E Diciamo Anche Delle Impurità Questo Io Non Sono Entrato Nel Merito Della Della Granulometria O Della Dei Numeri Di La Granulometria Si Misura In Mesh Non So Di Quanti Mesh Erano I Setacci Di Canton O Dei Produttori Di Acqua Di Mare Non So Neanche Qual È La Misura In Mesh Dei Filtri Che Usa La Sterralmar Che Usa Marentia Però Posso Dire A Questa Persona Scusa Non Non Mi Ricordo Il Tuo Nome Posso Dire Che Sia I Medici Del Nicaragua Che I Medici Del Perù Che Io Stesso Andavamo A Prelevare La Nostra Acqua Di Mare A Una Trentina Di Metri Dalla Riva Andavamo A Nuoto E Poi Mettevamo La Nostra Bottiglia Sott'acqua Non A Filo Dell'acqua E Poi La Riportavamo A Riva E La Bevevamo Così Com'era E In Perù Io Lavorato Assieme Ho Collaborato Con La Croce Rossa Di Un Paese Che Si L'Oso Organos E C'erano I Pescatori Che Quando Andavano A Pesca Prelevavano L'acqua Di Mare Sotto La Superficie E Portavano Alla Croce Rossa Delle Taniche Di Acqua Di Mare Che Veniva Utilizzata Direttamente Per Fare Delle Iniezioni Sotto Cutanee O Per Essere Bevuta Quindi Non c'è Stato Mai Nessun Problema Per Quanto Riguarda La Cosiddetta Purezza Dell'acqua Di Mare Ottimo Allora Passiamo Con Marisa Marisa Ti Domanda Ho L'abitudine Di Fare Lavaggi Al Naso Mattina Mattino E Sera Con Spray Isotonico Con Acqua Di Mare Posso Ritenerlo Un gesto Di Protezione Verso I Malanni Invernali Sicuramente Una Protezione Eccellente L'ideale L'ideale Ovviamente Per chi Se lo Può Permettere Economicamente Sono Le Diciamo Veramente Acqua Di Mare Che Ha Tutto Il Loro Potere Antibiotico E Tutte Le Qualità Originali Garantite Se no Anche Qualsiasi Acqua Di Mare In Bottiglia Va Bene E Io Preferirei Prenderla Direttamente Ipertonica Piuttosto Che Isotonica In Modo Di Avere Un Effetto Purificante Maggiore Tanto Più Che Le Mucose Non Si Irritano E Quasi Immediatamente Vanno A Rendere Quest'acqua Ipertonica La Rendono Isotonica In Genere Io Preferisco L'ipertonico All'isotonico Va Bene Allora Senti Piero Ho Due Domande Un po' Simili E una da parte Di Emiliana E una da parte Di Ernesto Emiliana Ti domanda Dove Acquistare Ormus Sicuri Ernesto Dice E ti chiede Con la voce Ormus Trovo Parecchi Prodotti Può Parlarne Per Assumere Il Migliore Allora Per quanto riguarda Gli Ormus Bisogna Stare Attenti Perché Ci sono Delle Ditte Che Vendono Un prodotto Cosiddetto Ormus In realtà Sono degli integratori Alimentari Tipo Quelli Che si usano Nei negozi Di nutrizione Per gli sportivi Dove In un Barattolo Di Aminoacidi Hanno Aggiunto Una Piccola Percentuale Di Ormus E Questi Li chiamano Comunque Come Sull'etichetta Li chiamano Ormus Bisogna Stare 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 Attenti Dovete Tenere Presente Che Da Un litro Di Acqua Di Mare Se Tutto Va Bene Riuscite A Estrarre Circa Due Grammi Di Ormus Che Sono Pochini E Quindi Il Costo Di Estrazione E Il Tempo Che Va Dedicato All'estrazione Di Polvere Di Ormus E Notevole E Bisogna Contare Che Un Buon Ormus Va A Costare Circa Un Euro Al Grammo Questo È Più O Meno Il Prezzo Che Si Trova Ci Sono Varie Prodotti Si Trovano Soprattutto Su Ebay O Su Internet Andando Su Internet Si Trovano Dei Produttori Comunque Nel Mio Libro Io Spiego Anche Come Potete Produrveli Voi Stessi Non È Un Procedimento Complicato Non È Neanche Costoso Soprattutto Se Voi Abitate Vicino Al Mare Sicuramente Qualcuno Degli Ascoltatori Che Fosse In Gamba E Che Avesse Lì Diciamo Un Indole Di Imprenditore Potrebbe Dedicarsi A Produrre Degli Ormus Italiani Per E Per Qualcuno Che Abita In Sardegna Potrebbe Mettersi A Produrre Degli Ormus Italiani Ci vuole Tempo E L'unico Strumento Importante È Un pH Metro Un pH Metro È Una Specie Di Sonda Che Una Persona Inserisce In Una Soluzione Acquosa Liquida E Che Indica Immediatamente Il pH Di Questa Soluzione Perché È Molto Importante Nella Procedura Di Fabricazione Degli Ormus Di Non Oltrepassare Un Certo pH Che È 10 78 Perché Oltre a Questo pH Anche Il Sodio Precipita E Praticamente L'Ormus È Una Polverina Che Prende Tutti Gli Oligo Elementi Del Mare Fuor Che Il Sodio E Quindi È Importante Riuscire A Fare Precipitare Per Quelli Che Hanno Nozioni Chimiche È Così Che Si Chiama La Floculazione Che Si Produce In Una Soluzione Quindi Si Fa Precipitare Tutti Questi Minerali Che Vanno Sul Fondo E Rimane La Soluzione Liquida Nella Quale C'è La Concentrazione Di Sodio E Questa Soluzione Va Lavata Alcune Volte Finché Riusciamo A Isolare Questa Polverina E Quindi Vi Dicevo Più O Meno Vengono Fuori Se Tutto Va Bene Circa Due Grammi Di Ormus Per Litro Di Acqua Di Mare Ottimo Grazie Grazie Ti ascolterei Per ore Però Voglio Proseguire Perché Voglio Accontentare Un po' I partecipanti Perché Abbiamo Veramente Tante Domande Il Tempo Vola Allora Da parte Di Quantitativi Quindi Se Una Persona Vuole Lavorare Su Una Tanica Di 10 Litri Usa La soda Caustica Però Se Usa Lavora Su Dei Quantitativi Più Piccoli Dove Il Dosaggio Deve Essere Più Preciso E Meglio Usare Il Carbonato Di Sodio Ok Allora Anche qui Ho scelto Due Domande Da parte Di Due Partecipanti Maria Pia Più Ernesto Allora Maria Pia Ti chiede I 6 Grammi Di Sale Al Giorno Comprendono Anche Quello Nei Cibi Ernesto Domanda Allora Assumendo 6 Grammi Di Sale Integrale Si Può Evitare Di Acquistare Plasma Di Quinton O Altro Bene Allora Prima Rispondo Ancora A Ganzo Che Mi È Piaciuto Il Suo Nome Allora Torno Indietro Va Bene Allora Se Conosci Lo Spagnolo Potrai Vedere Tanti Video Di Persone Che Fanno Seminari Dove Spiegano Illustrano La Produzione Di Questi Ormus Nell'ambito Di Un Webinar O Di Una Classe E Lì Vedrai Sia L'applicazione Con Il Carbonato Di Sodio Che Anche Con La Soda Caustica Poi Per Quanto Riguarda Maria Pia Allora Ovviamente I 6 Grammi Non Bisogna Essere Fanatici E Diventare Matti Andare A Pesare Il Sale Che Si Consuma Tanto Più Che Se Io Metto Del Sale Nell'acqua Della Pasta Come Faccio A Sapere Quanti Grammi Vengono Assorbiti Dalla Pasta E Quanti Grammi Io Mangio Di Sale In Provenienza Diciamo Di Questo Sale Che Ho Messo Nell'acqua Della Pasta Quindi Stiamo Diciamo Approssimativi E Rimaniamo Su Questi 6 Grammi Poi Per quanto Riguarda Il Discorso Di Dire Che Il Sale Sostituisce Il Plasma Di Quinton Bisogna Vedere Perché Vuole Prendere Plasma Di Quinton Se Vuole Inserire Prendere Plasma Di Quinton Per Raggiungere 6 Grammi Dovrebbe Consumare Parecchia Quantità E Dovrebbe Spendere Parecchi Soldi Però Il Plasma Di Quinton Ha Dimostrato Di Avere Dei Poteri Curativi Notevoli Proprio Per Il Fatto Che Il Plasma Di Quinton Nelle Ampolle È Un Elemento Vivo E Quindi È Importante Che Il Plasma Di Quinton Nelle Ampolle Bevibili Di Marca Quinton O Di Una Marca Similare Siano Consumate A Uno Scopo Terapeutico Di Un Bambino Che Ha Dei Problemi Che Un Po Rachitico Che Ha Dei Problemi Di Salute Di Dicenteria O Cose Così Perché Sfruttiamo Il Suo Potere Diciamo Curativo Energetico Se No Ovviamente Il Sale Di Se Stesso Può Andare Va Tenuto Presente Che Se Io Estraggo Il Sale Dall'Acqua Di Mare Solo Per Il Fatto Che Il Sale Viene Prodotto Tramite L'Evaporazione Dell'acqua Nell'acqua Di Mare Ci Sono 92 Elementi Oligo Elementi 92 Oligo Elementi Che Sono Tutti Quelli Che Stanno Nella Tavola Di Mendeleev Mendeleev Quello Russo Che Ha Scoperto Tutti Gli Oligo Elementi Esistenti Nel Regno Diciamo Nella Terra Nel Nostro Mondo Però Sono Tutti Presenti Nell'acqua Di Mare Ma Io Per Il Solo Fatto Che Io Lascio Evaporare L'acqua Con L'aria Che Vola Via Ci Sono Degli Oligo Elementi Che Sono Contenuti In Quantità Così Infime Che Volano Via E Quindi Il Sale Al Massimo Riesce A Contenere Un 72 80 Oligo Elementi Rispetto Ai 92 Che Ci Sarebbero Nella Acqua Di Mare Quindi È Importante È Più Importante Consumare Acqua Di Mare Che Non Sale Marino Integrale Però Bisogna Tenere Presente Che Gli Oligo Elementi Mancanti Sono Veramente Infinitesimalmente Presenti Nell'acqua Di Mare E Quindi Hanno Un'importanza Relativa Anche Se Sappiamo Per esempio Quelli Che Usano Gli Oligoterapici I Farmaci Oligoterapici Sanno Che Per esempio C'è Rame Oro Argento Che È Molto Importante Per la Salute Perché Nel Nel Nostro Corpo Abbiamo Nei liquidi Corporei Abbiamo Del rame Abbiamo Dell'oro Abbiamo Dell'argento Ma In quantità Così Infinitesimale Che Può Darsi Che Con L'evaporazione Dell' Dell'acqua Dell'umidità Dal sale Già Questi Alcuni Di questi Elementi Possono Prendere Il volo E Scomparire Bene Allora Continua Ancora Un po' Con le Ultime Cosa Dici Io Ne Ho Scelti Ancora Un po' Magari Io Sono Entusiasta Possiamo Continuare Sì Va Bene Magari Se Vuoi Rispondere Un po' Più Velocemente Perché Sono Veramente Tante Ma Sono Che Oro Sono Le 22 Dai Continuiamo Un po' E Poi Vediamo Fiorella Ti Domanda Una Cura Di Soluzione Salina È Adatta Anche Ai Bimbi Per Rinforzare Il Sistema Immunitario Oh Yes Allora Certamente Tantissime Tantissime Mamme O Tantissimi Amici Mi Dicono Ah Ma Io Da Bambino Mi Piaceva Moltissimo Il Sale Oppure Ah Il Mio Bambino Quando Riesce A Afferrare Del Sale A Metterselo In Bocca Lo Fa Molto Volentieri I Bambini Naturalmente Riconoscono Nel Sale Un Vita E Proprio In Perù Abbiamo Sperimentato Che Quando Facevano Delle Conferenze E Siccome Lì Ci Sono Tantissimi Bambini Piccoli E Le Mamme Invece Di Darle Alle Nonne O A Delle Baby Sitter Se Li Portano In Giro Attaccati Sulle Spalle O Diciamo Attaccati Al Seno Abbiamo Visto Che Quando Un Bambino Piangeva O Disturbava Tra virgolette Disturbava Bastava Dargli Un Cucchiaino Di Acqua Di Mare Il Bambino Subito Voleva Voleva Quest'acqua Di Mare La Prendeva E Si Riappacificava Subito Ed Era Diventato Proprio Il Calmante Dei Bambini Che Piangevano Quando C'erano Delle Conferenze Quindi Fa Sicuramente Molto Bene Ai Bambini E Le Mamme Che Sono Incinte Visto Che Il Loro Bambino Deve Crearsi Generarsi Fabricarsi In Un Modo Completo E Sano Hanno Tutti Interesse A Consumare Grandi Quantità Di Acqua Di Mare O Di Plasma Di Quinton Perché Il Loro Bambino Così Avrà Tutti I Elementi Necessari Per Costruirsi Un Sistema Nervoso E Un Sistema Osseo Sano D'altronde Anche Quinton Aveva Notato Che Quando C'erano Delle Famiglie In Cui Avevano Tendenza A Fare Dei Bambini A Produrre Dei Bambini Rachitici O Con Dei Problemi Quando Ha Cominciato A Far Prendere Un' Integrazione Di Acqua Di Mare Alle Mamme Questi Bambini Hanno Cominciato A Nascere Sani Quindi È Sicuramente Molto Molto Consigliato Per I Bambini Bene Grazie Pier E' Tutto Molto Interessante Quello Che Tu Dici Grazie Mille Di Essere Qui Con Noi Questa Sera Allora Ti Ringraziano Anche Intanto Leggo Anche La Chat Sono Tutti Molto Contenti Di Questo Tuo Intervento Allora Voglio Continuare Con Luigi Luigi Ti Domanda Il Allora Il Sale Himalaiano Va Bene Per Quelli Che Credono Nell'importanza Del Dalai Lama E Della Spiritualità E Che Associano L'importanza Della Parola Himalaia Nel Senso Che Diventa A Un Valenza Di Placebo Molto Importante Però Faccio Notare Che Il Sale Himalaiano Generalmente È Rosa O Arancione Questo Colore Rosa O Arancione È Proprio La Dichiarazione Del Fatto Che Il Sale Himalaiano Non È Un Puro Sale Marino Integrale Perché Ha Ricevuto L'integrazione L'inserimento Di Metalli Di Ferro Di Altre Cose Che Lo Hanno Colorato Ma Nello Stesso Modo In Cui Ha Ricevuto Questa Integrazione Ha Perso Alcuni Minerali Tra Cui Soprattutto Si è Impoverito Di Magnesio Sappiamo Che il Magnesio È Molto Amo Amo L'acqua E Quindi Si Umidifica E Quando C'è Un Giacimento Di Sale E Che Se Pensiamo Al sale L'Himalaya Che Che Volta Era Sotto Il Livello Del Mare Che È Stato Portato Altitudine Di 4.000 5.000 Metri Che È Stato Esposto Alle Intemperie Alla Neve Alla Filtrazione Di Acqua Delle Intemperie Attraverso Il Giacimento Ovviamente Non Possiamo Più Sapere Cosa È Cosa È Stato Tolto A Questo Sale È Molto Difficile Trovare Un'analisi Completa Del Contenuto Dei Vari Minerali Del Sale Himalaiano Una Volta Sono Riuscito A Trovarla E Ho Visto Che Non Corrispondeva Perfettamente Completamente A Quella Mediana Diciamo Del Sale Marino Oceanico Quindi Io Personalmente Non Consiglio Il Sale Himalaiano Però A una Persona Che Consuma Sale Raffinato E Che Decide Di Mettersi Sul Sale Himalaiano Sicuramente Fa Bene Non So Quanto Io Rimanga Nel Sale Himalaiano Questo Non Lo So Sarebbe Importante Saperlo Riuscire a Trovare Una Misurazione Di Questo Perché Se Anche Ci fosse Meno Iodio Allora Sarebbe Proprio Da Evitare Il Sale Himalaiano Mi Dispiace Per Quelli Che Amano Sale Himalaiano Bene Bene Senti Chiara Invece Ti Domanda Il Sale Di Cervia È Considerato Un Sale Marino Integrale Sì Il Sale Di Cervia Sicuramente È Un Sale Marino Integrale Nel Senso Che Loro Lo Prendono E Lo Lasciano Evaporare Semplicemente L'acqua Dal Sale E Quindi Dopo Lo Raccolgono Quindi Lo Si Può Considerare Come Un Sale Integrale Ci Sono I Francesi Ovviamente Sappiamo Che I Francesi Hanno Tanto Lo Chauvinismo Che I Francesi Sono Meglio Di Tutti E I Francesi Hanno Tendenza A Dire Di Evitare I Sali Del Mediterraneo Perché Dicono Il Mediterraneo Un Mare Chiuso E Quindi È Un Sale Che Magari Può Essere Più Soggetto A Inquinamenti Chimici Di Quello Che Può Essere Un Oceano Difatti I Sali Francesi Integrali Oceanici Sono Tutti Dell'Oceano E Non Del Mediterraneo E Quindi Insomma Io Il Sale Di Cervia Lo Ritengo Un Sale Eccellente Non Ho Avuto Occasione Di Visitare Le Saline Di Cervia Ma Ci Sono Amici Che L'hanno Visitate E Veramente Hanno Una Grandissima Cura Nella Raccolta E Nel Confezionamento Del sale Quindi È Molto Importante E Molto Buono Adesso Pierre Quando ci Verrai A trovare Qui a Bellaria Vicino Rimini Andiamo Assieme Ti Ci porto Io Dieci Minuti Da Noi Grazie Allora Passiamo Con Cirmil Domanda L'acqua di mare Aiuta La B12 Per i Vegani Allora Secondo me No Non ho fatto Ricerche in merito Non credo Anche perché La quantità Di B12 Che ci sarebbe Sarebbe Infima La B12 C'è Nelle alghe Le alghe Hanno B12 Però Non tutte Le alghe Hanno Lo stesso Quantitativo Di B12 E Per esempio Se uno Dice Io consumo Delle alghe Per avere La B12 E Praticamente È una persona Che prende Le alghe E le mette Sulla Sua Insalata Come Mettesse Un po' Di parmigiano Sulla Pasta La quantità In grammi Di alghe È infima E la quantità Di B12 È ancora Più Infinitesimale E quindi Se già Nelle alghe Che sono Conosciute Per avere Della B12 C'è già Una quantità Infinitesimale Penso che Nell'acqua Di mare Non la si può Considerare Come una fonte Di B12 Bene Passiamo A Giovanni Che ti domanda Il sale marino Integrale Va bene Anche per gli anziani Che perdono La memoria Sicuramente Va molto bene Allora Catrib Diceva sempre Che Lo zucchero È Diciamo Il carburante Delle nostre Macchine Ma il sale È tutta L'infrastruttura Elettronica Del nostro Organismo E quindi Consumare sale Sicuramente Sempre che sia Integrale Vero Sicuramente Aiuta Facilita La circolazione Elettrica Nel nostro Cervello In tutto il nostro Sistema Neurologico Bene Allora Pierre Io Mi fermo Qui con le domande Grazie Per tutte le risposte E Mi scuso Se non siamo riusciti Ad accontentare Tutti I partecipanti Ma le domande Erano Veramente Tante E abbiamo Solo poco più Di un'ora A disposizione Allora Oltre alle domande Pierre Sono arrivati Veramente Tanti Tanti Complimenti Per te E appunto Alcune persone Ci chiedono Dove Possono Contattarti Io ho preparato Una slide Che adesso La regia guarda Me l'ha messa Ti piace Va bene Siamo stati È tutto corretto È tutto corretto Possiamo aggiungere Che c'è un Canale Su Telegram E questo Canale Telegram Ha come Dicitura Conferenze Pierre Valdibrucia Quindi Chi Ha Diciamo L'applicazione Di Telegram Basta che cerchi Conferenze Pierre Valdibrucia E il vantaggio Di Telegram È che quando Una persona Si inserisce Non trova Solo Quello Che si Verrà messo Sul canale Da quando Si è iscritto Ma troverà Anche tutto Il materiale Precedente E c'è tantissimo Materiale Su questo Su questo Canale Quindi È Diciamo Una possibilità Anche per È un canale Sul quale Scrivo Solo io Però dal canale Si può risalire Anche al mio Numero Di Di Telegram Oppure Comunque Mi mandate Una mail Insomma In genere Non rispondo Alle domande Sul canale Youtube Però Sulle domande Che mi vengono Fatte Via email In genere Rispondo Prima o poi Rispondo Bene Senti Piero Io volevo Ricordare Di nuovo Che il libro Il sale Integrale Lo faccio Di nuovo Vedere Rimedio Antico Magico Eterno Con Con L'alchimia Degli Ormus Lo potete Acquistare Se volete Sul giardino Dei libri www.ilgiardinodeilibri.it Tra l'altro Pier Nel secondo capitolo Voglio far vedere Perché Visto che Non sono riuscita Ad accontentare tutti Nella seconda parte Ci sono Proprio Tutte Anche altre domande E risposte Che Pier Non si vede Però nella seconda parte Del libro Ci sono Eh non si vede Ci sono Tante domande Dove tu poi Hai risposto Nella seconda pagina Dopo pagina 52 E come dicevo prima Chi lo acquista Riceverà in omaggio Il pur estratto Di mare Da cucina Dal valore Di 8 euro Eccolo qua Abbiamo anche qui Una bellissima slide Ricordo Che Noi del giardino Dei libri Assieme a Pier Vi facciamo questo Bellissimo omaggio Che acquista Logicamente Il libro Di Pier Pellizzari Ecco qua Allora Poi vi chiedo Se volete Vi chiedo Di lasciarci un messaggio Sulla nostra pagina Facebook Instagram E diteci Se vi è piaciuta La serata I vostri consigli Sono preziosi Per noi E ci aiutano A capire Se abbiamo fatto bene Il nostro lavoro Scriveteci Io e il mio staff Siamo veramente Curiosi Di leggervi E ci fa anche Piacere Se ci lasciate Un commento Sotto al video Della registrazione Che sarà già pronta Da domani Vi arriverà Una mail Con il link Della registrazione Di questa sera E ricordatevi Che potete vedere Tutti i nostri Webinar Precedenti Nella sezione Webinar Del giardino Dei libri Ce ne sono Tantissimi Interessanti E se volete Vederli Basta andare Sulla nostra pagina Dedicata ai webinar Ad esempio Ad aprile È stato Nostro ospite Pier Pellizzari Con il titolo Ripulire i propri organi Ti ricordi Pier Abbiamo parlato Di questo libro Che tu prima citavi Sì 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 È un libro Abbastanza importante Sì Sì È stato Un bel webinar Sì Anche Ad aprile Quando l'abbiamo fatto È stato Veramente Molto interessante E proseguiamo Che voglio ricordarvi Il nostro prossimo webinar Mercoledì 6 ottobre Sempre alle 20.30 Avremo in collegamento Samia Di Donato Il titolo del webinar È Iniziazione al potere dei colori Alla ricerca dei colori Della felicità Allora Pier Bene Siamo giunti Alla fine Ti domando Se vuoi aggiungere qualcosa Come chiusura Per tutti i partecipanti Che sono Ancora online E tantissimi complimenti Ringraziano Grazie di cuore Pier È una bella conferenza Grazie dei consigli È sempre bello ascoltarti Tanti tanti complimenti Cosa aggiungiamo? Allora Io vorrei aggiungere una cosa Che un giorno Un maestro messicano Mi aveva detto Dopo Diciamo Una Una piccola Iniziazione Formazione Che mi aveva fatto Mi aveva detto Adesso Vai nel mondo E Divulga Quindi Per me Sarebbe molto Importante Che Le persone Che Che sperimentino Che sperimentino Prima di Diciamo Credere Cecamente A quello Che io Posso Aver detto Posso avere Diciamo Scombusolato Nelle loro Nozioni Sarebbe 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 importante Sarebbe importante Che potessero Dopo Divulgare Questa importanza Del sale E che Mi farebbe piacere Che la gente Che andasse in ospedale Fosse in grado Di esigere In caso Di soluzione Fisiologica A un parente A loro stessi Di dire No Io Vi chiedo Sono anche Disposta A pagarla Di avere Invece La soluzione Fisiologica Normale Avere una soluzione Elettrolitica Reidratante Sarebbe Già Un passo Meraviglioso E Concludo Dicendo Che Siamo A Val di Brucia E che Vista La situazione Che si sta Creando Nel mondo Abbiamo Deciso E abbiamo Intenzione Di rimanere Qui a Val di Brucia Tutto l'inverno E quindi Contrariamente A quello Che Era la nostra Tradizione Di chiudere A fine Ottobre Noi saremo Presenti Sempre qua E quindi Le persone Che ci vogliono Contattare O visitare Qui a Val di Brucia Possono scriverci E potranno Trovarci Più o meno Sempre Bene Allora Io voglio Ringraziare Per tutti i partecipanti Che sono stati Veramente Tanti E sono ancora Tanti online Che ringraziano ancora Stanno facendo I saluti E che dire Piero Io ringrazio Veramente Di cuore Te Perché Sei una persona Meravigliosa Ti stimo Tanto Te lo dico Sempre Grazie di essere Stato qui Con noi Ed è stato Davvero Una serata Una bella serata Molto molto interessante Ci hai dato Veramente tanto Grazie Grazie di cuore E buonasera a tutti Ci vediamo Mercoledì prossimo Ciao Grazie a voi E a tutti Buonanotte Ciao Ciao Grazie a tutti